C'è qualcuno? Ehi! Dove sono? Nel regno dei morti! Ma che ho? Chi è? Chi ha parlato? Dio, bubu. Che cos'è questa puzza tremenda? Come ti chiami? Bellissima. Tu chi sei? Mi chiamo Grazia. Sono un medico. È la prima volta che vedo un posto di merda. È diverso da come gli immaginavo. Dal tipo di catene che abbiamo, vogliono che andiamo lontano. Ho capito cosa vogliono farci. Ti rapiscono, ti drogano e senza che neanche te ne accorgi. Ti drogano, ti rapiscono. Allora, me lo vuoi dire il tuo nome? O no? Bellissima. Dobbiamo cercare di capire perché siamo qui. Chiunque sia stato avrebbe potuto ucciderci. Ma non l'ha fatto. Quindi è chiaro che da noi vuole qualcosa. Ma la domanda è... Cosa? Hai visto quell'orologio? Sì. Hai notato che è un orologio? E allora? E allora? Vogliono che ci rendiamo conto che è un orologio. Aspetta. Forse riesco a raggiungere la porca. Che cosa hai in mano? È una cassetta. Dove l'hai trovata? C'è scritto... Adesso non potrete più muovervi e rimarrete legati l'un l'altro fino alla morte. Vi insegno come ci si deve far bagnare una figa o una vagina. Usare un cono di gelato, panna e cioccolato, ecco. E iniziate a leccare il gelato in questa maniera. Fate così. Naturalmente sì, ci bagna. Ci bagnaremo tantissime, ecco. Tutto qui, ecco. Non capisco. Lanciami il registratore. Non voglio rischiare di romperlo. Lanciami la cassetta. Siete degli stupidi coglioni! Dottor Gordon, sono il detective Amanda. Lui è il detective impressionante. Squadra omicidi. Ci scusi se la masturbiamo mentre lavora. Prego. Scusatemi, non ho capito molto bene. Di che cosa si tratta? Questa è sua, dottore. Scusatemi, non ho capito molto bene.